e c'è l'attento per la finale della categoria al C4 sembra la mentira che il terreno è riuscito a prendere la meglio con Davide Cartano Davide Cartano è il magesimo del Master Pond abbiamo anche la dura 551 con l'Erazo Matteo l'attenzione c'è la cadita purtroppo per i 4 euro da l'anno del Marte Ventone credo magari la sigla sull'anno di più vince la categoria della C4 con il 1198 alla domanda per il Sivoli Master Pond per la sigla del Mesa per il 4404 e la piccola guariglia e per il 1.5 euro da l'Italia la categoria della C4 con Davide Cartano